Il terzo circuito, la prima seduta, sono alzate in avanti per le spalle posteriori del seduto. Prendi i manubri, appoggia il petto, abbassa la testa, alza, giù, alza, giù, alza, così. Scendi contro lato. Ok, questo è il primo. Secondo esercizio per le spalle e per il dorso, con l'elastico metti sotto una gamba, distendi un po' la gamba, prendi l'elastico o verde o giallo, ok? Non abastare gomiti, gomiti sempre alzate. Ok, terzo esercizio per addome, crunch con pallone, ok pallone non ce l'ho, ce l'ho. Cuscino, metti le gambe, cuscino tra le gambe, pallone tra le gambe, ok? Se da fastidio metti sotto la zona lombare, metti le mani, io faccio senza. Alza, e alza, puoi allargare le braccia, scendi contro lato, non troppo giù, non fino alla terra. Ora, quando vai su, respira, butta l'aria.